pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati venerdì santo celebramo la passione del signore guidati dall'evangelista giovanni contempliamo la croce cosa ci dice fondamentalmente la croce io direi due cose primo la gravità del male secondo la grandezza dell'amore di dio primo punto partiamo dalla gravità del male guardare nostro signore crocifisso ci fa pensare a quanto sia grave il peccato a tutto il male di cui lui si è fatto carico e di conseguenza ci fa riflettere sulle nostre scelte sbagliate e sulla loro serietà nostro signore va in croce perché lui lo ha volontariamente scelto ma quella croce è un conglomerato di peccati di un male che si è concretizzato nel rifiuto da parte di alcuni capi religiosi di quel tempo che non hanno accettato gesù dunque la verità di dio chiusi nelle loro categorie nelle loro aspettative nella loro ricerca del potere personale via il peccato dell'autorità pubblica che se ne è lavata le mani ma vi è anche il tradimento il rinnegamento l'abbandono da parte dei discepoli la cattiveria dei soldati l'inconsistenza della folla che prima grida osanna e poi crocifiggilo insomma abbiamo gesù che si fa carico di tutto questo peccato e non solo di tutto il peccato del mondo compreso il nostro e inchiodandolo al legno della croce lo vince con un amore più grande questo miei cari ci fa riflettere sulla serietà e anche sulla gravità dei nostri peccati vedete noi a volte rischiamo di ridurre il peccato a una regola infranta e la confessione al momento in cui questa multa viene strappata in realtà il male è male e fa male e il peccato è qualcosa che chiaramente offende il signore cioè ferisce la nostra relazione con lui e fa male a noi e alle persone che abbiamo accanto vi faccio un esempio se io pecco d'ira dunque ferisco una persona usando male parole il peccato non è un principio che ho infranto il peccato che io ho offeso l'amore e ho ferito gravemente quella persona e quel peccato quelle parole le hanno fatto male mi viene in mente la storia di quella persona che molto facilmente si lasciava andare a parole cattive e moti di rabbia allora un giorno andò dal suo maestro chiedendo aiuto per uscire da questa situazione e il maestro gli disse guarda guarda quando arrivi a fine giornata vai fuori dove c'è la staccionata e pianta tanti chiodi quante sono le parole brutte che hai detto ti chiedo di arrivare a non piantarne più nessuno a diminuire dunque giorno per giorno a quel punto viene a chiamarmi la persona inizia il primo giorno 25 chiodi mamma mia disse il giorno dopo 20 poi 15 poi 18 poi 10 poi finalmente arrivò a non piantarne più allora andò dal maestro e gli disse bene ora ti chiedo continua a non piantarne e inizia a dire parole positive parole belle quando lo fai a fine giornata stacca tanti chiodi quante sono le parole belle che hai detto passarono le settimane i mesi e finalmente tolse tutti i chiodi tutto contento andò dal maestro che si complimentò però anche aggiunse vedi la staccionata adesso non ha più chiodi però è comunque piena di buchi renderci dunque conto che i nostri peccati hanno una portata ci fanno del male e fanno del male i nostri rifiuti d'attenzione e i nostri atteggiamenti possessivi i nostri scatti d'ira sono tutte cose che ci fanno male perché ci rinchiudono in noi stessi induriscono nel nostro cuore ci staccano da dio e fanno del male a qualcuno contemplare dunque la croce ci chiama ad una conversione e a saper riconoscere il cristo sofferente in tante persone a cominciare da chi abbiamo accanto fino ai poveri ai diseredati agli immigrati a tutti coloro che in questo momento soffrono nella loro carne saper riconoscere in loro il cristo sofferente crocifisso che dice anche a noi oggi ho sete ho sete del tuo amore dunque primo punto la croce ci fa riflettere sulla serietà del male e sulla conseguenza delle nostre azioni ma soprattutto secondo punto la croce manifesta lo smisurato immenso e fedele amore che dio ha per ciascuno di noi entrando proprio più puntualmente nel vangelo secondo giovanni dovete sapere che giovanni rilegge la passione di gesù alla luce della risurrezione con una chiave molto bella quella della gloria per giovanni la passione la crocifissione di gesù iniziano a manifestare la gloria del signore gloria in ebraico vuol dire il peso specifico la sostanza cioè noi nell'ora della croce nell'ora dell'abbandono nell'ora del tradimento noi vediamo la sostanza il peso specifico di gesù la sua fedeltà al padre e all'amore per ciascuno di noi andando ancora più a fondo miei cari l'evangelista giovanni ci presenta la crocifissione di gesù come una reciproca glorificazione tra il padre e il figlio il figlio glorifica il padre compiendo il suo disegno di redenzione per ciascuno di noi per l'umanità intera e il padre glorifica il figlio intronizzandolo presso di sé questa reciproca glorificazione è letta dall'evangelista come una reciproca manifestazione d'amore seguitemi perché tanto bello e ci fa entrare nel mistero dell'amore di dio per noi nell'ora della passione gesù ha detto bisogna che il mondo riconosca che io amo il padre e ancor prima aveva detto per questo il padre mi ama perché io offro la mia vita dicendo così gesù tra l'altro riconosce che il padre gli mostra il suo amore proprio nel momento della croce rispettando la sua libertà di potersi offrire in sacrificio per la salvezza del mondo dunque miei cari vedete nel vangelo non c'è spazio per quell'idea assurda di pensare a dio padre come un carnefice che manda suo figlio a morire o a gesù che come un bambino pretende che il padre gli tolga tutte le difficoltà nell'ora della croce l'amore più puro sostanzia il rapporto tra padre e figlio il padre sostiene gesù nel suo dono di sé e gesù si dona trasfigurando con l'amore il suo sacrificio come disse von balthasar dunque la croce alla luce della risurrezione e l'autoglorificazione dell'amore di dio nel mondo per mezzo del quale il male è vinto dunque miei cari la gloria che si rivela è una gloria che va oltre ogni gloria umana vana passeggera come disse un bravo autore non è il peso di avere qualcosa né di essere se stesso come possessore ma la gloria di non voler essere altro che amore abisso d'amore per il quale non c'è più immagine né concetto o paragone capace di esprimerlo miei cari la croce è il grande ti amo di dio per noi l'amore di un padre che per noi dona suo figlio ma ci pensate chi di noi donerebbe suo figlio per salvare dei poveri peccatori e l'amore di un figlio che per ciascuno di noi si dona sino alla fine si dona fino in fondo caro fratello cara sorella ma ci pensi quanto sei importante per dio per te ha ritenuto opportuno dare tutto tutto se stesso e se esistessi solo tu al mondo lui l'avrebbe fatto comunque pur di salvarti pur di raggiungerti pur di convincerti del suo amore infinito per te perché tu non abbia paura di lasciarlo entrare nella tua vita e lasciarti salvare caro fratello cara sorella ti auguro davvero di far spazio a quest'amore potente e liberante il solo capace di pacificare il nostro cuore di riconciliarci con noi stessi e con la nostra storia noi non siamo quello che gli altri dicono o come gli altri ci definiscono noi siamo figli figli amati da sempre e per sempre dunque non aver paura di lasciarti amare di lasciarti riabbracciare di lasciarti riconciliare il tuo peccato ti sembra troppo grande il suo amore lo è di più nella tua sofferenza ti senti solo lui è crocifisso e lì con te hai paura di non farcela ricorda lui non ti abbandona mai dunque contempliamo il crocifisso contempliamo quelle braccia sempre aperte e lasciamo che il suo amore vinca le nostre resistenze e muova all'amore il nostro cuore che il buon dio vi benedica e buon venerdì santo a tutti all'amore il nostro cuore di riconciliare 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 il nostro cuore di ricon